In questa puntata di Unica News, la Regione Marche finanzia ben quattro progetti nell'ambito dei fondi PSR. Prosegue il successo del Master Unica in scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici, lo spin-off Unicam BioVec Block tra i finalisti del programma Be Heroes. Il Rettore Unica in visita nei giorni scorsi all'azienda Techpol. A tutti voi ben ritrovati a questo appuntamento con le notizie di servizi sull'attività dell'Università degli Studi di Camerino. Vediamo subito il primo contributo. Sono stati ben quattro i progetti che vedono il coinvolgimento dei ricercatori Unica e che sono stati finanziati dalla Regione Marche nell'ambito dei fondi PSR Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 per un totale di oltre 400 mila euro. Tra i progetti, quello denominato il Biopagin in una filiera avicola industriale a basso impatto ambientale nel rispetto dell'economia circolare, coordinato da professor Gianni Sagrantini della Scuola di Scienza del Farmaco e dei Prodotti della Salute, che vede un ricco partenariato con enti di istituzioni del settore e con importanti aziende, quali la Società Cooperativa, agricola Carni del gruppo Fileni e la Nova Monte. Abbiamo incontrato il professor Gianni Sagrantini. Questo progetto si chiama innanzitutto AbrioPAC, l'acronimo è questo. È un progetto nel quale praticamente si va a studiare, si va a tentare di sostituire i classici imballaggi tradizionali, fatti prevalentemente di plastica e destinati alla conservazione. Quindi per capirci stiamo parlando di questi tipi di imballaggi alimentari, di packaging, destinati alla conservazione della carne o di altri alimenti, si appunto si vanno a sostituire con imballaggi fatti di materiali completamente biodegradabili, in particolare Mater B. Questo ovviamente è una grossa innovazione nell'ottica anche dell'economia circolare, quindi dell'utilizzo di materiali che siano sempre più meno impattanti sull'ambiente. Quindi le leienti e le aziende coinvolte in questo progetto regionale PSR sono ovviamente, oltre all'Università di Camerino, l'azienda proponente che è la Carni del gruppo Fileni, poi la Nova Mont che è una famosa azienda italiana che sarà quella che produrrà il materiale biodegradabile, poi c'è l'Istituto Zoo Profilattico di Umbria e Marche, ci sono alcune aziende agricole, c'è il Cosmari, c'è il Consorzio Italiano dei Compostatori ed altre realtà. La partecipazione di Unicam sostanzialmente si snoda appunto attraverso sostanzialmente due unità operative di ricerca, da una parte i ricercatori della Scuola di Scienze del Farmaco, della Scuola di Scienze e Tecnologie e della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria che si occuperanno di studiare appunto la capacità di questo materiale completamente biodegradabile di conservare l'alimento carne, quindi faremo e effettueremo studi di shelf life e andremo anche a valutare l'impatto ambientale che questo materiale ha ovviamente sull'ambiente e quindi prevalentemente sul suolo. Dall'altra parte invece l'altra unità di ricerca che è rappresentata dai nostri colleghi veterinari, sempre della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, che invece andranno a valutare ovviamente l'impatto del fenomeno dell'antibiotico resistenza e in particolare si occuperanno di tutte quelle tematiche che riguardano appunto l'allevamento biologico per cui allevare appunto in questo caso polli attraverso un'alimentazione che sia completamente di tipo biologico e quindi priva di antibiotici. Appresso il via nei giorni scorsi, presso la sede Unicam di Civitanova Marche, l'ottava edizione del Master di secondo livello in scienza dei prodotti cosmetici e dermatologici di Unica, diretto dalla professoressa Piera Di Martino, che come negli anni passati continua a riscuotere grandi interessi con le conseguente notevole successo di iscritti. Anche per questa edizione infatti è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti che è di 20 iscritti con ben 5 studenti provenienti dall'estero. Questa è la conferma che Unicam ha una notevole visibilità sia nazionale che internazionale, essendo capace di attrarre studenti da fuori regione e da tutta Italia, potendo offrire una formazione di elevata qualità. Il Master ha come obiettivo quello di formare professionisti capaci di creare prodotti cosmetici sempre più innovativi e performanti. Oggi la cosmetologia affascina sempre di più i neolaureati perché viene percepita interessante per quella tendenza all'innovazione e alla creatività che la contraddistingue. Nonostante in certi settori lavorativi i neolaureati continuano a trovare difficoltà nell'inserimento lavorativo e professionale, in ambito cosmetologico si osserva un elevato dinamismo. Lo spin-off Unicam BioBecBlocke è una delle 20 migliori start-up italiane che prendono parte alla seconda edizione del programma Be Heroes, percorso di accelerazione di circa 8 mesi, rivolto ad aziende ad alto contenuto e innovazione con sede operativa in Italia, che sarà raccontato in un format televisivo. I ricercatori di BioBecBlocke hanno superato diverse prove nel corso di un evento che si è tenuto nella sede del Sole 24 ore, affrontando tematiche quali team strategia, marketing plan, crescita e scalabilità, impatto sociale, legale, tecnologia, dimostrando ai selezionatori le potenzialità della start-up. BioBecBlocke è inserita nella categoria Salute e Benessere. Le start-up selezionate saranno raccontate in un programma televisivo che andrà in onda su Sky 1. Stai tuned per tutti gli aggiornamenti. Il Rettore di Unicam, Claudio Pettinari, ha visitato nei giorni scorsi l'azienda Techpol di Morro d'Alba, leader nella progettazione e nello stampaggio ad iniezione di materiale termoplastici di componenti per impieghi nel settore automotive, electronic, fitness ed altri. Nel corso dell'incontro sono state analizzate in particolare le potenzialità di Techpol e le collaborazioni possibili rispetto al comparto produttivo caratterizzato da profili di forte automazione e allo sviluppo del prodotto. Sono stati valutati terreni comuni di collaborazione nonché modalità concrete con le quali tradurre i processi di innovazione legati alla filosofia di Metal Replacement Technology al centro delle politiche di sviluppo dell'azienda. Una prospettiva che incorpora più discipline e interessa la ricerca su nuovi polimeri per offrire ai mercati automotive del design e di molti settori industriali ad alta innovazione le migliori soluzioni in termini di efficienza, presentazione e sostenibilità. E con questo è tutto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, ovviamente alla stessa. Ora vi ricordiamo che potete trovare altre notizie sull'attività dell'Università degli Studi di Camerino sul sito internet www.unicam.it. Buona serata. www.unicam.it. Buona serata. Grazie. Grazie.